Ciao Lustri, mi chiamo Giovanni, ho 12 anni e sono un tuo grande fan. Per aiutare tutti quelli che come me devono convivere con la fibrosi cistica, organizziamo con Marcheton una giornata di sport e divertimento. Sogno di vederti cambiare la tua maglia con la nostra ed essere con me alla Patenza sabato 12 settembre a Bellinzona.